Sono un po' perplesso questa domenica mattina. Mentre in Siria continuano i bombardamenti contro le popolazioni civili, bambini, donne, anziani morti sotto i bombardamenti americani, in Italia i nostri giornaloni fanno titoli su clamorose operazioni dei carabinieri che sventano feste clandestine di giovani che in casa festeggiano la laurea o il compleanno. Sono un po' perplesso su come si stia ribaltando la nostra scala di valori.